L'adria all'assalto delle villette a Mercogliano. È stata una notte ad alta tensione per i residenti di via degli Orti Acqua delle Noci. Quattro furti perpetrati in poche ore ai danni di alcuni appartamenti situati all'ingresso della cittadina del Partenio. Altri colpi sarebbero stati sventati, soprattutto dall'abbaiare dei cani a guardia delle abitazioni. Le incursioni sarebbero avvenute con le persone in casa, considerando l'ora del raid, anche con anziani e bambini intenti a dormire. Una donna vittima di un furto si sarebbe sentita male, in stato di shock, è stata soccorsa dai sanitari della Croce Rossa. I ladri sono riusciti a introdursi nelle case, scalando le pareti e forzando gli fissi con chiavi bulgare e trapani silenziati, razziati dai ladri, gioielli, oro e denaro incontanti. Bottini ingenti con i malviventi che complici il buio si sono dileguati tra le campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce sul vicino raccordo autostradale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno pattugliato la zona per tutta la notte, i malati sono stati abili a guadagnare la via di fuga. Poche settimane fa, sempre a Mercogliano, i ladri colpirono le villette di via De Santis. Quell'occasione furono tre gli appartamenti svaliggiati. Escalation di furti anche a Montoro, nella frazione Borgo e i malviventi, pur di accedere in un'abitazione, l'altra notte hanno picchiato selvaggiamente anche un cane.